Io penso che per un personaggio come me, e mi reputo da questo punto di vista affrontando un argomento del genere, un cittadino, un uomo della strada, ecco credo che la sincerità, l'onestà, l'essere diretti per affrontare questo argomento sia la strada migliore. Mi spiego ancora meglio, se penso al mio mestiere e lo penso in rapporto alle statistiche, tremo, nel senso che la mia attività si svolge dal punto di vista non solo televisivo, anche cinematografico e quant'altro, attraverso una serie di statistiche che comprovano in qualche maniera se il risultato del lavoro che hai fatto è stato accettato o no e questo in qualche maniera determina anche il futuro stesso del tuo mestiere. Questo magari mi ha creato una fase di ansia nel rapporto con i numeri in senso più generale. Dall'altra parte la mia formazione di cittadino che mi porta ad essere anche attento alle cose dello Stato, della società nella quale vivo, mi ha creato un rapporto diretto con la statistica intesa come il metro e il termometro anche, che posso usare in maniera un pochettino più diretta per avere informazioni e formazione sulle cose che mi stanno avvenendo intorno, anzi delle quali sono anch'io in qualche maniera protagonista. Mi piace molto sottolineare l'idea di statistica come scienza dello Stato perché questo è un riaffermare il senso vero e reale della democrazia attraverso questo strumento, se usato e deve essere usato come uno strumento proprio di estrema rappresentazione della democrazia, cioè a dire i dati e le informazioni che vengono e che vengono trasmessi attraverso la statistica devono permetterci di avere sempre più chiaro il quadro della situazione e in particolare della società e dello Stato nel quale noi viviamo, quindi se tutto quello che è informazione dettagliata e numerica intorno a problematiche, a prospettive, perché poi bisogna pensare alla statistica come qualcosa che incide sia nell'analisi crudele come nella possibilità di creare futuro e possibilità. Ecco, rispetto a questo credo che l'attenzione appunto del cittadino, di chi come me si sente appunto un cittadino della strada, è quella di pensare a un futuro, a un miglioramento, a un controllo continuo e costante di questa scienza che è al servizio appunto del cittadino perché possa tornare utile non solo sul piano dell'informazione ma sul piano della formazione per quanto riguarda il futuro di un paese che vuole ritenersi e che si ritiene democratico.